ragazzi vi mando un video messaggio direttamente dal divano di casa mia dato che la prof sta per avere l'influenza e infatti ho anche la copertina però vi voglio avvisare che stasera su Rai 3 ci sarà un bellissimo film intitolato l'ottava nota e chi di voi non l'avesse ancora visto lo guardi perché è veramente molto bello altrimenti lo troverete sul mio canale youtube ciao ciao